Gentili telespettatori, buona giornata. Ogni tanto faccio qualche video su Chiara Gribaudo, che è la coinquilina della Schlein ed è una fedelissima, però a sentirla parlare ci si accorge di chi è Chiara Gribaudo. Fino ad oggi ha detto delle cose, insomma, diciamo, chiamiamole divertenti. Oggi che cosa dice? L'astro nascente del Partito Democratico. Lei ha scoperto perché ora la destra è forte. Ascoltiamo dalle vere parole di Chiara Gribaudo, l'astro nascente. Allora, il PD viene sconfitto in maniera tremenda alle ultime elezioni comunali. Una vera caporetto, disfatta. Ma non c'è da preoccuparsi, dice Chiara Gribaudo. Ci vuole tempo e molto lavoro, non c'è da preoccuparsi. Le poltrone loro ce le hanno, che se c'è da preoccuparsi? Ci vuole tempo e molto lavoro. Lavoro di che cosa? Scusi, signora Gribaudo, ci vuole tempo, ok, ma molto lavoro in che senso? Cosa vuol dire ci vuole molto lavoro? Beh, lei dice è una scalata, ma abbiamo gambe e testa, quindi calma e gesso. Mi ricordo che Lino Banfi diceva in un film, calma e gesso, compare non è un fesso. Quindi, lei dice, tempo, lavoro, è una scalata, abbiamo gambe e testa, quindi calma e gesso. Raccogliamo le istanze di cambiamento che agitano la società e di sostegno a chi ha sempre meno voce nel nostro paese. Chi è che ha sempre meno voce nel nostro paese? Ma chi è? Chi sono quelli che hanno sempre meno voce nel nostro paese? Beh, bisognerebbe chiedere, scusi Gribaudo, ci vuole tempo e molto lavoro. Che cos'è questo molto lavoro? E chi sono questi che nel paese hanno sempre meno voce? Sovrastati dal governo dei cattivi? Chi sono? Ma, domanda aperta, ma aggiunge poi che c'è un vento forte del centrodestra, è un fenomeno umano, ma storico. Cioè è un fenomeno umano, ma storico. Sta avvenendo in tutta Europa e non è neanche nuovo. Da sempre l'uscita dalla crisi, in questo caso sanitaria, poi economica e infine sociale, rafforza la destra e la sua propaganda. Oggi però la destra in Italia governa e quando si tratterà di ricostruire i disastri che stanno già facendo, dobbiamo essere pronti con le nostre proposte. Quindi la convinzione che poi al centrodestra manchi una coalizione. La destra è molto divisa sulle proposte, ma compatta quando va a votare. È così dal 1994. Detto ciò, se la maggioranza corre quasi ovunque è unita e le opposizioni sono divise, in tre tronconi il risultato è decisamente scontato. Il primo obiettivo però è una nuova alleanza con l'elettorato che non va più a votare. Insomma, per la DEM è tutta colpa della crisi e non di una sinistra assente. Pertanto colpa della crisi sanitaria, colpa del covid, è una roba europea, quindi una roba europea che va avanti dal 1994. È dal 1994 che la destra avanza in Europa. Quindi sono cose europee, sono cose del 1994, e perché loro sono uniti. Quindi l'assenza totale di idee e di qualsiasi cosa nella sinistra italiana e l'assenza anche di una segretaria che è lo specchio dell'assenza del partito, cioè il partito non c'è, la segretaria non c'è. Se mettete insieme una segretaria che non c'è come politica è un partito che non c'è, cosa viene fuori? Il nulla eterno. Quindi non è problema che a sinistra c'è il nulla eterno, il problema è colpa della crisi sanitaria e delle cose che vanno avanti dal 1994 in Italia. Insomma, direi che sono delle riflessioni molto profonde, 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 profonde. Io mi tolgo il cappello di fronte a delle valutazioni così preziose. Fatene tesoro di queste esternazioni perché sono vere e proprie pillole di saggezza politica. Riguardatevi il video, ascoltate parola dopo parola e ringraziate l'Agribaudo per questo. Ieri ho fatto un altro video, sempre su di lei, perché secondo me è l'astronascente dopo la Schlein, dopo la Schlein c'è lei, Chiara Gribaudo, la fedelissima di Ellie, ti presento se Ellie. Bene, e poi aggiunge, non è finita, c'è una proposta congressuale che ha vinto, quella di Ellie Schlein. Oneri e onori di guidare il PD. E no, non c'è nessuna donna sola al comando, ma parliamo di collegialità o del ritorno dei caminetti dei capi correnti, perché nel secondo caso i nostri elettori e i nostri militanti non capirebbero. E non c'è il ritorno delle correnti. Le correnti ci sono sempre state, non sono mai andate via. Chiara, Agribaudo, le correnti non sono mai andate via. La Schlein è stata proprio eletta da una corrente. Eh sì, eh sì, eh già. Quindi non c'è un ritorno dei capi correnti, le correnti sono sempre state lì. Non c'è una donna sola al comando. Ah sì? Nel PD dicono che decido tutto lei, che non dà ascolto a nessuno, che ha la sua cerca ristretta di fiedelissimi, di yes man, per il resto non dà retta a nessuno. Quindi non è una donna sola al comando? Ho dei dubbi, dei dubbi. Non ci sono più correnti con la Schlein? Ma cosa dice Chiara Agribaudo che non ci sono più correnti nel PD? Il ritorno dei caminetti, dei capi correnti. I caminetti? Ma cosa sono questi caminetti? Cos'è? Attorno al fuoco? Le tribù? Vabbè, insomma, il partito è quello che è e i politici che ci sono al loro interno sono quello che sono, insomma. Ma io confido in Chiara Agribaudo come astro nascente del partito democratico. Forza Chiara Agribaudo, puoi prendere il posto della Schlein e sei la fedelissima, potresti essere quella che succede a questa grande capa politica. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.